Per rispetto delle vicende e dei personaggi si prega di ridere con moderazione. Il verbale dice che l'auto era in sosta vietata. E questa è una prova sufficiente. Come si chiama quella con i capelli lunghi? Quale? La tua collega di lavoro. Per colpa sua tuo padre si è suicidato e l'unica cosa che ti viene in mente è insultarlo. Ti sto dicendo che la striscia in terra non c'era. Lo sai che sei un pezzente frustrato? Coglione! Non ci posso credere. Filmami questo! Ma quale violenza? Io sto descrivendo una realtà. Dov'è la violenza? Ciao da Valeria. Oggi parliamo di Disney e vi dico che sono in programma ben 21 film in uscita nei prossimi tre anni contando tutte le produzioni della Marvel Studios, Lucasfilm e Pixar. Tra questi ci sono Zootopia e Moana che usciranno entrambi in 3D nel 2016. Zootopia uscirà il 4 marzo ed è un cartone ambientato in una sorta di Las Vegas abitata da animali e ha per protagonista una volpe dalla parlantina veloce che, accusata per un crimine che non ha commesso, collaborerà con un coniglio poliziotto. Moana invece uscirà il 23 novembre 2016 e racconterà la storia della figlia di un celebre navigatore polinesiano. Scaricate la nuova app di Film is Now disponibile sia per iPhone che per Android e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!